no, vieni sopra, su di terra dica che l'affusate non vieni sotto eh ma poi si può attivarti il su di qua è impossibile eh è impossibile che ti attiva il su di qua si, io c'ho il terzo si, ma hai chiuso il terzo e siamo morti non c'è velocità eh ahahah ragazzi domani dobbiamo andare a lavorare acqua ferie oh ahahah ahahah su stagio, camminava su stagio dove è il bico compagno? sono tutti lì aspettiamo voi, Pietro c'è con voi? io no, è andato a prenderlo a filonarmi ha detto che per lui la fai su stagio no figa che pensionato che sei cazzarola oh tanto non mola, io ho fatto un po' vai nonno eh domani ma la fai, ma la fai oh oh hai visto? non ne poteva più lì perchè la prendete per il culo perchè l'importante è venire cazzo la fai già chiamata era lì il motore